Ciao ragazzi, innanzitutto com'è andata questa prima prova? Bene, no no è andata bene, fortunatamente le tracce erano abbastanza belle diciamo e quindi siamo riusciti a fare la prova Che traccia avete scelto? Io personalmente ho scelto la traccia su Enrico Fermi Tu? Pure io perché abbiamo fatto un corso di approfondimento e quindi... Siamo stati fortunati in questo Decisamente Tu invece? Io ho scelto siamo quel che mangiamo invece Ok, sentite, com'è andata la notte prima dell'esame? La fatica notte prima dell'esame? Beh, ieri sera è andata tutto Abbiamo passato una serata tranquilla Ci siamo ritirati prima per riposarci di più Però siamo stati alla cattedrale e c'era un panorama mosso a piazza Ok Da notte prima si vedeva tutto il gargano Bellissimo Sinteramente l'ho passata prima con i miei amici Poi sono stato con la mia ragazza Stiamo andando a mangiare qualcosa E poi per le undici e mezzo mi sono ritirato Ok, un'ultima cosa Qual è la prova che temete di più? Eh, matematica O domani, matematica Eppure la terza prova non si scherza Anche la terza prova non si scherza Ok ragazzi Speriamo nella grazia divina Grazie mille, un forte in bocca al lupo a tutti e tre Crepi, crepi Grazie mille, un forte in bocca al lupo a tutti i miei amici Grazie mille, un forte in bocca al lupo a tutti i miei amici Grazie mille, un forte in bocca al lupo a tutti i miei amici